buongiorno ragazzi in questa walking trailer talk ho appena visto anzi veramente l'ho visto ieri sera e l'ho rivisto adesso the silence nuovo film prodotto da netflix che esce il 10 aprile sulla piattaforma e il trailer è veramente mozzafiato mi ha veramente sballato allora sembra diciamo una imitazione leggermente diversa di a quiet place mischiata con il già recensito nel mio canale e beatbox però più in centrale solo non far rumore veramente emozionante questo tele potrebbe veramente avere spessore come film c'è stanley tucci mi sembra di aver visto che ci sia miranda otto se non mi sbaglio e il cast insieme nel primo livello il trailer fa veramente venire voglia di vedere questa serie sembra che non si deve fare rumore ci sono delle creature tipo pipistrello dinosauri non si capisce in un paio usaggio al quasi post apocalittico forse una cosa che sembra che sia appena successa questo stanley tucci come una notte tutta la sua famiglia che sono in questa macchina dove scendono a fare rumore può succedere qualcosa e il rumore viene fatto e poi c'è un seguito di eventi si vede che conoscono altri personaggi che sanno già dei problemi gli fanno vedere un biglietto con scritto di style con così sembra molto interessante questo the silence io vi metto il link descrizione perché mi è piaciuto tanto è una improvvisata questa un improvisation video non so come chiamarlo è un'improvvisata è comunque un trial talk the silence piattaforma netflix guardato dal 10 aprile io lo guarderò sembra interessante penso sia un film potrebbe essere una serie alla prossima ragazzi da movie maker ci vediamo ciao ragazzi